Ciao ciao a tutti bentornati! Scusate la voce, ma sono appena arrivata a casa dalla partita del bambino Non lo so, hanno otto anni, ma non lo so, il calcio è una cosa allucinante E ho passato tutta la partita, urlavamo Insomma, un disastro E quindi non ho voce, un po' a momenti, ma se non faccio questo video adesso non lo farò mai più Che non ho più tempo Signore e signori ce l'ho fatta Ho finito questo mattone Cioè la stazione di Jacopo De Michelis Mattone di... adesso vi dico le pagine 870 pagine Non finiva mai Ci ho messo due settimane per leggerlo Non finiva mai no perché fosse un brutto libro Un po' perché non avevo tempo Un po' perché ho effettivamente fatto abbastanza fatica Edito da Giunti prezzo di copertina a 19 euro Ho fatto un po' fatica in alcuni momenti Non è un brutto libro Io gli ho dato tre stelline, devo dire La storia c'è, la base c'è, i personaggi ci sono L'ambientazione, la stazione centrale di Milano e anche un po' di Milano in generale C'è ed è fantastica Forse è la cosa che mi è piaciuta di più C'è del thriller, ci sono delle indagini C'è un po' di paranormale Cose strane che a differenza di altre persone che ho sentito A me non ha disturbato Perché fondamentalmente è un romanzo Cioè è un romanzo Non è che... mettici dentro quello che vuoi A me non mi interessa se ci sono cose paranormali, cose assurde È un romanzo, non è realtà Quindi a me non ha disturbato Ci sono una storia dentro l'altra concatenate Ripeto, non mi è dispiaciuto Cioè gli ingredienti ci sono tutti Però il condimento è troppo C'è 870 pagine Si fanno anche leggere perché la scrittura è fluida Ci sono secondo me Però tante situazioni, tanti eventi Che potevano essere tagliati Mi dispiace, in realtà io non voglio denigrare Anche perché da qualche parte ho letto che l'autore Ci ha messo una cosa come 8 anni per scriverlo Per portarlo a compimento In realtà avrei dovuto controllare Perché non sono certa di questa cosa E questo impegno, questa ricerca certosina Probabilmente di ogni dettaglio Della parola giusta Traspare tantissimo Nel senso che leggendo anche le parole usate È un italiano molto completo Ricercato, ecco Cioè tutta l'attenzione che probabilmente l'autore ci ha messo Si nota Non è uno scritto buttato lì di getto Con un po' di talento e quindi funziona C'è sicuramente uno studio dietro Però a volte devo dire Ok, ok, ok Mi sono sentita veramente veramente coinvolta Forse le ultime 250 pagine Dove è iniziato proprio Si iniziava a capire A mettere tutti i puzzle al loro posto Ma è iniziato proprio a diventare un po' più adrenalinica Anche il racconto, ecco E forse Ma questo può essere gusto personale In un thriller è questo quello che cerco io Ripeto Non lo boccio assolutamente Però, vabbè, non mi sono sentita di dargli più di tre stelline Anzi Sono contenta anche Scusate, sono un po' Sono contenta di averlo letto Perché comunque mi ha fatto compagnia Mentre ha tenuto Cioè il suo dovere l'ha fatto Non è che non mi è piaciuto Però in tanti momenti, ripeto Leggevo e dicevo Ok, ok Cioè leggevo un po' per dire Devo andare avanti, devo andare avanti Per superare quel pezzo che stavo leggendo Detto questo Il protagonista Mi piace Un personaggio che mi piace Cioè Riccardo Mezzanotte Quindi Sono anche interessata magari a rincontrarlo in un futuro Non lo so Però Non sempre così Con il suo 170 peggio Bene Detto ciò Io vi saluto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao